Risponderà di usura e distorsione il 62enne di Qualiano finito in carcere dopo la denuncia di un imprenditore di Pozzuoli, sua vittima per oltre 25 anni. In una notte i carabinieri ricostruiscono tutte le fasi di quel prestito sulla parola presto, trasformatosi in un demone che divora con violenza, minacce, ricadute psicologiche e instabilità familiari. Nel 1999 la prima richiesta di 5 milioni di lire è subito aumentata del 30%. Nuovi prestiti furono necessari per coprire quelli vecchi, con interessi che aumentavano di decine di punti percentuali. Poi l'arrivo dell'euro e di nuove richieste, prima 10 mila poi 16 mila 500, somme restituite ma con una sovrattassa che fece lievitare il debito da 27 mila 500 a 55 mila euro. Nel 2011 la richiesta all'usuraio supera i 60 mila che a tassi applicati sfiora i 120 mila euro da restituire. Nel 2018 sono 200 mila. Poi in questi giorni la decisione di denunciare. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno documentato tutta la storia raccogliendo ogni possibile dettaglio utile a ricostruire oltre 20 anni di sofferenza. Hanno scoperto che a fronte dei 70 mila euro materialmente ottenuti la vittima era stata costretta a pagarne più di 200 mila. I militari hanno così organizzato uno scambio controllato di denaro accompagnando discretamente la vittima all'incontro con l'usuraio. Disposti in più punti di osservazioni i carabinieri hanno atteso che la vittima consegnassi il denaro a scambio avvenuto e scattato il blitz. Finito così prima in manette e poi in carcere Nunzio Bitonto già noto alle forze dell'ordine.